Un sit-in di protesta organizzato dal comitato civico Sissi, la Calabria e Contè davanti al Ministero di Grazia e Giustizia a Roma per chiedere verità sul giallo dell'agente penitenziaria. La protesta davanti al palazzo di Via Renula nella capitale si è concluso con l'incontro tra il ministro Alfonso Bonafede e il padre della ragazza di origini Taurio Novesi con le rassicurazioni del responsabile del di Castero. Non è giusto che una famiglia che perda una figlia, nel senso che adesso ce l'ha sul letto in uno stato in cui un padre non vorrebbe vedere mai i propri figli, non è giusto che venga lasciata sola dallo stato, non è giusto anche se si considera che quella figlia ha indossato la divisa, ha servito lo stato, lo ha fatto con una divisa che per noi è importantissima che è quella della polizia penitenziaria e quindi è uno stato vigliacco quello che prima si fa servire dai suoi agenti e poi li abbandona quando accade qualcosa di irreparabile. Era il primo novembre di due anni fa e Sissi si trovava in servizio nell'ospedale civile di Venezia, dove aveva il compito di controllare una detenuta che da poco aveva partorito. Quel giorno inizia il calvario per la ragazza e i suoi familiari viene ritrovata a terra, priva di sensi, con una ferita di arma da fuoco alla testa. Un tentativo di suicidio, secondo la procura di Venezia, che vorrebbe archiviare l'indagine. Un tentato omicidio invece per i familiari di Sissi, che non accettano la versione sostenuta dai magistrati veneziani. Troppe lacune, secondo la difesa della famiglia Trovatomazza, nell'indagine condotta dal PM del Tribunale di Venezia. C'è una pistola priva di impronte, quella di Sissi, da cui sarebbe stato esploso il colpo, ma Sissi non portava i guanti quel giorno e se fosse stata lei a tentare di uccidersi sulla pistola sarebbero state ritrovate le impronte digitali sue. E poi c'è il cellulare di Sissi, ritrovato nell'armedetto della caserma giudecca di Venezia il 3 novembre del 2016, ma che al telefono, al legale dei familiari della ragazza, gli inquirenti avevano detto di aver sequestrato subito dopo l'avvio delle indagini, ma che non è stato mai esaminato soprattutto le telefonate in entrata e in uscita. Il ministro Bonafede ha assicurato di prendere visione del caso di Sissi e ha rimandato il tutto all'incontro ufficiale con la famiglia il prossimo 6 novembre. Il ministero non teme nessun terreno scivoloso, io quando arriva anche un articolo di giornale, un mezzo articolo di giornale, un messaggio whatsapp in cui mi viene detto guarda che lì c'è qualcosa che non sta funzionando, sempre rispetto all'autonomia della magistratura, io mi attivo immediatamente attivando gli uffici.